Ha denunciato il figlio dopo un anno di paure e vessazioni. Ai militari ha raccontato angherie e maltrattamenti di ogni genere, il tutto per ottenere soldi per i suoi acquisti. L'uomo, un 45enne, nato a Firenze ma da anni residente a Sansepolcro, è stato così denunciato ed allontanato da casa. Oltre dieci gli episodi accaduti negli ultimi anni e riportati ai carabinieri dall'anziana signora residente in Valtiberina. La donna, così nei giorni scorsi, dopo l'ennesima violenza subita, ha deciso di chiedere aiuto e rivolgersi alle forze dell'ordine. La relazione inviata alla procura di Arezzo ha infatti riportato svariati episodi e questo ha convinto il giudice nel redigere l'ordinanza restrittiva. Adesso l'uomo è stato allontanato dall'abitazione su disposizione del GIP del Tribunale di Arezzo. Non si tratta però dell'unico episodio di violenza di genere che si è verificato in questo periodo nell'Aretino. Sempre negli ultimi giorni un'altra ordinanza di applicazione della misura cautelare nell'allontanamento dalla casa familiare sempre emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della procura destinatario del provvedimento un altro 45enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate contro la moglie. L'uomo infatti da tempo l'avrebbe minacciata, insultata, umiliata di fronte ai due figli, entrambi minori.